Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 di ramazione di Napoli, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, attiva un restringimento di carreggiata tra Salerno centro e l'allacciamento con la 2 del Mediterraneo in entrambe le direzioni. Sulla 3 Napoli, Salerno, dalle 22 di stasera alle 6 di domani, chiude per lavori il tratto compreso tra Cava dei Tirreni e Salerno in direzione Salerno. Sulla strada statale 7 Quater Domiziana, sino le 17 di oggi, è ridotta la carreggiata tra Castelvolturno Nord e Linesto, con la strada statale 7 Bis, terra di lavoro in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Salerno, sino le 17.30 di oggi, è chiuso il tratto tra le uscite Mariconda e Salabagnano in direzione Fratte. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza. Grazie a tutti.